ehi la ciurma io sono mazzetess e benvenuti in questo nuovo video video l'anno scorso avevo fatto una sorta di game of the year mazzetess edition riguardo a quello che avevo giocato durante l'anno e che tipo di valutazione davo con una piccola recensione bene visto che mi era piaciuto come era venuto e che alcuni di voi l'avevano apprezzato sono tornato quest'anno per fare quello di del relativo al 2017 quindi prendetevi un po di popcorn mettetevi comodi perché questo video durerà un po perché racconterò in pratica tutto quello che ho giocato durante l'anno diviso in tre capitoli come l'anno scorso i giochi che sono stati portati sul canale i giochi a cui ho giocato per quanto riguarda delle recensioni e i giochi invece con giocato per conto mio al di fuori del canale del tutto ecco durerà un po cercherò di sbligarmi un po ma i titoli sono tanti e quindi iniziamo a per quanto riguarda i giochi che ho portato sul canale quest'anno di novità sono state tre al primo terzo posto primo al terzo posto e sam and max situation comedy che ho portato in occasione di alcune live forse durato tre live se non ricordo male come esempio di avventura grafica mi è molto piaciuto e l'ho giocato perché il seguito di dell'altro sam and max di cui parlerò più avanti è simpatico carino un'avventura grafica molto gradevole al secondo posto c'è invece shop e keep di cui la serie è teoricamente ancora in corso non ho avuto tanto tempo per registrare ma è ancora in corso è un gioco gradevole che qualcuno mi aveva già chiesto sul canale anni addietro forse due anni fa e ho trovato la possibilità di trovarlo in un bundle e mi piace ma al numero uno che distaccato enormemente dagli altri due expeditions conquistador che per me è stata una delle rivelazioni di quest'anno insieme al fratello expeditions viking che è uscito invece proprio quest'anno è davvero molto bello perché unisce il gdr vecchio stile quindi con visuale isometrica e un sacco di testo allo strategico per cui appunto i combattimenti erano c'è sono a turni sulle caselle esagonali è molto 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 bello la serie ancora in corso nonostante non abbia grande successo e questi sono i tre titoli che ho giocato per il canale di cui non ho fatto recensioni passando invece le recensioni allora quest'anno dovuto ho avuto davvero tantissimi giochi da recensire e alcuni non li ho ancora invece con minimamente filati e ce li ho ancora nel backlog da aprire e installare quindi iniziamo con il numero 40 40 è fiong fiong è una robezzuola schifezzuola che mi hanno mandato tramite keymailer e è abbastanza in su cioè nel senso non è che fatto male fa schifo è rotto che ma è proprio poco divertente non spenderei mai dei soldi per un gioco con una grafica del genere con un gameplay del genere per quanto costi tipo 90 centesimi al trentanovesimo posto è the onion knights che è teoricamente un no è un tower defense ma non mi è piaciuto proprio per niente e anche questo stato in una live come fiong c'è stata una breve live di una mezz'oretta forse in cui ho fatto portato questo titolo se siete interessati potete trovarla sul mio canale ma non è davvero un buon gioco altrettanto tesi opposto c'è river of island che è un titolo che ha delle potenzialità che sono ricordo male è in early access che però è davvero strutturato un po male perché è complicato non si capisce bene cosa bisogna fare cosa bisogna fare c'è un sistema di crafting in poco intuitivo c'è un sistema di raccolta e risorse poco intuitivo e quindi dopo il tempo che l'ho giocato durante la live per provarlo non l'ho più ripreso in mano perché non mi aveva per nulla esaltato catturato lo trovate sul canale numero 37 c'è the kindred su cui avevo messo gli occhi sopra già da un po di tempo perché sembrava molto interessante con una grafica stile voxel un survival in cui si ha un piccolo villaggetto tipo banished ma molto diverso giusto per rendere l'idea e però è in early access ma davvero molti molti bug e non funziona bene per molte cose tipo lo spawn delle risorse la raccolta delle risorse i crafting sono un po rotti gli animali hanno un po di casini perché poi despawnano oppure spariscono completamente dalla mappa può essere interessante ma ancora molto molto da crescere l'ho trovata anche questo su una live numero 36 troviamo cooking witch anche questo ho giocato durante una live che si è uno è un filler è un gioco filler ma niente di che c'è una cosina proprio easy per cellulare che non impegna niente cioè io troverei meglio sul cellulare che non comprarlo per computer al numero 35 abbiamo balance city che ha una dinamica molto interessante anche una sorta di campagna l'ho portato in live ma non mi ha lasciato tantissimo di stucco nel gameplay mi ha emozionato ecco quindi idea originale idea carina un gioco discreto però senza infami senza lode ecco non ha neanche punti a svantaggio proprio un gioco medio al numero 34 sempre più o meno sullo stesso livello abbiamo yet another zombie defense che si è un tower defense tipo in cui devi difenderti dai zombie ci sono delle waves sempre più difficili da uccidere con sempre più zombie raccogli soldi e a cui comprare degli oggetti devi cercare di resistere il più possibile ed è anche in multiplayer volendo se non sbaglio al numero e c'è in una live al numero 33 c'è prevent the fall che ho portato in una live è carino ma ha pensato per vr quindi non ha una grafica chissà che cosa non ha particolari dinamiche è un gdr a dungeon che appunto non è esaltantissimo se uno non lo gioca in vr in vr potrebbe dare qualcosa di più però non fa gridare comunque al miracolo ecco è interessante più che altro per il fatto che è un gdr che puoi giocare con vr poi al numero 32 abbiamo tech wars online che ho portato su una live è un gioco di combattimento tramite dei mac con visuale isometrica carino c'era anche abbastanza gente nel multiplayer quando l'ho provato hanno fatto un aggiornamento di recente ma non ho ancora avuto possibilità di riaprirlo mi pare che mi ha scritto proprio una mail allo sviluppatore o un commento sotto il video ma nella live un pochettino peccato per il fatto che essendo multiplayer laggava un pochettino essendo che streamava e giocava in contemporanea al numero 31 invece c'è prime arena che ho portato con un video se non ricordo male perché anche questo è online è una sorta di incrocio tra un moba e un battle royale perché hai le abilità come nei moba è un champion come nei moba hai delle zone da farmare come nei moba hai dei livelli in cui puoi salire di livelli insomma come in un moba ma hai l'area che si restringe causata dalla nube tossica come in un battle royale e ne resta vivo solo uno quindi non è a squadre ma è ognuno per sé e è carino sì non esaltante dal punto di vista grafico ci sono molte cose da sistemare però è un buon bozzo di gioco ecco poi c'è my world action rpg maker al posto numero 30 che si è più che altro un rpg maker in 3d con un'alta mod di abilità altra possibilità di creare delle campagne ok con una piccola campagna in sé che anche questo non fa gridare la miracola un po' come rpg maker un gioco fatto con rpg maker o rpg maker in sé non sono una roba fenomenale però sono una roba che può far uscire delle cose molto interessanti ecco dopo abbiamo guardians of amber al posto numero 29 e ne ho portato un video se non ricordo male di grandi no forse ne ha il problema di guardians of amber è che è un mmorpg e quindi l'ho provato un tot e non mi ha preso l'ho provato forse una o due ore non mi ha preso tantissimo e quindi ad un certo punto l'ho abbandonato e ho detto vabbè l'ho provato non ho tempo per recensire tutto e quindi l'ho un po' droppato ma sembrava abbastanza promettente ma niente di nuovo cioè niente di mai visto una visuale isometrica standard grafica un po' vecchiotta missione di partenza solite e quindi non mi ha fatto gridare al miracolo e l'ho droppato al numero 28 hard paper borders di cui dovrei fare ancora un video in realtà nonostante Laura Bularca che è una delle due sviluppatrici del gioco mi abbia mandato la key un tot di tempo fa c'è da dire che è praticamente in alfa cioè hanno giusto iniziato a sviluppare la prima parte del gioco cioè un primo pezzo è un gioco in cui in pratica la dinamica può essere interessante se hai una sorta di adolescente in un mondo fittizio che ha una specie di anno sabbatico che poi può durare più di un anno in cui hai la possibilità di visitare il mondo quindi prendi vai a visitare dei monumenti puoi avere delle scelte e alla fine di ogni visita puoi sbloccare degli hashtag con cui puoi scrivere sul tuo blog dei racconti e guadagnare dei soldi e dei follower in base a quello teoricamente uno dovrebbe poi guadagnare abbastanza follower per poter continuare a fare il giro del mondo come mistiere cioè guadagnando solo da quello che si posta sul blog e ogni nazionalità ha delle caratteristiche diverse per cui magari degli hashtag vanno di più in una nazionalità piuttosto che in un'altra magari costa di più la vita ok però ha giusto il primo stato e mezzo sbloccato ci sono molte dinamiche ancora da perfezionare al numero 27 invece c'è City Car Driving di cui ho fatto una video recensione sul canale è più che altro un gioco per scuola guida cioè un programma per scuola guida perché è davvero molto molto dettagliato nonostante la guida sia un po' legnosetta ed è diventa frustrante perché uno deve essere perfettissimo per riuscire a superare i livelli altrimenti devi rifarli da capo ed è davvero un po' pesante ma ne ho fatto la recensione completa quindi potete guardare quello al numero 26 invece c'è The Seat di Seat non so esattamente leggerlo che è una specie di come dirlo è un genere di giochi non so come si chiamano quelli in cui c'è un traditore e tutti gli altri sono buoni e bisogna scoprire uno o più traditore bisogna scoprire chi è il traditore quindi qua il traditore è tipo un mostro che quando è da solo con la gente li ammazza e quindi deve cercare di uccidere tutti mentre gli altri devono cercare di scoprire chi è il mostro e scappare è abbastanza carino c'è anche abbastanza gente si possono sbloccare dell'abilità ma non ho più avuto tempo di tornarci ed è un attimo da capire perché ha delle dinamiche sue peculiari però è un buon gioco al numero 25 Mirage Arkhan Warfare che era partito molto bene come seguito spirituale di Chivalry perché Chivalry è per quanto riguarda il combattimento medievale quindi con armi bianche mentre invece Mirage era partito come idea di un combattimento come quello cioè pensato proprio sulla fisicità del muovere il mouse direzionalmente alla Mountain Blade per intenderci ma con dei combattimenti tra maghi ognuno con delle abilità diverse con delle armi diverse quindi classi di maghi differenti ma ha avuto poco successo sia di vendite che di altro e quindi è stato abbastanza un flop e i server sono sempre drasticamente vuoti quindi risulta un po' ingiocabile perché è praticamente solo multiplayer come lo era Chivalry e come For Honor For Honor è stato un pochettino un flop per quello perché la gente ha abbandonato abbastanza in fretta e i server si sono spopolati al numero 24 noi abbiamo Bohemian Killing che ho portato in una live purtroppo l'ho analizzato poco ma è davvero stra-mega-intrippante perché ci troviamo in un tribunale in cui dobbiamo difenderci raccontando che cosa abbiamo fatto quindi tutto gioco una sorta di flashback in cui noi facciamo quello che raccontiamo quindi in base a come agiamo il racconto verrà diverso l'unica cosa è che c'è forse uno solo forse una sola possibilità di agire in modo che sia quella corretta in modo che non veniamo condannati poi ma assolti in questo tribunale e bisogna... è un trail and error bisogna provare poi a un certo punto c'è qualcosa che non quadra e quindi niente game over una volta dopo però sappiamo che ne so se prima siamo andati alla taverna a bere un bicchiere di birra e aveva funzionato possiamo farlo mentre invece dopo eravamo andati all'albergo no non quadrava poi la ricostruzione quindi non possiamo farlo ma sceglieremo di fare qualcos'altro quindi pian piano ci avvicineremo alla soluzione un po' come in Mastermind ecco come collegamento magari inizi con solo un colore e poi dopo vai avanti numero 23 Space Pirates and Zombies 2 di cui tra l'altro ho ottenuto anche l'uno nel mentere forse con un bundle non ricordo più con un giveaway o su Steam Gifts non ricordo non l'ho comprato l'unica cosa di cui sono sicuro il 2 sembra molto promettente ma ho bisogno di un attimo per mettermi ci sopra e quello che mi ha un po' frenato è che uno è tutto inglese ma quello non è un problema mi tocca molte cose in inglese l'inglese ormai non dovrebbe essere più un problema per nessuno nel 2018 ma usano dei dei gerghi strani cioè c'è tipo il pirata che quindi parla un po' da buzzurro c'è il robot che quindi impara che la un po' senza articoli ok e quindi è un lessico un po' tosto da comprendere e quindi mi sono un po' bloccato ma sembra interessante mi sono bloccato dal tutorial tra l'altro ci ho giocato forse una o due ore dovrò riprenderlo al numero 22 c'è sombrero che ho giocato con la mia coincolina perché è un multiplayer 2D è un multiplayer 2D come dirlo non è un brawler non è un shoot em up ma neanche si più o meno vabbè comunque lo trovate su steam costa anche poco se non ricordo male è carino secondo me dà il meglio nel coach co-op cioè co-op locale perché online non è che sia chissà quanto divertente è più divertente mettersi in quattro con il pad davanti al computer e farsi due risate tutti insieme come può essere un warm a numero 21 ho piazzato holy potatoes we are in space di cui ho portato un video sulla prima parte poi non ho continuato l'avventura sul canale ci ho giocato un po' ma poi dopo l'ho abbandonato perché come ho portato a termine holy potatoes weapon shop il primo titolo della serie e si era rivelato abbastanza ripetitivo un filler ma abbastanza ripetitivo a un certo punto non succede più niente di nuovo devi solo raccogliere oggetti per andare avanti con la quest e fare oggetti più potenti è buon quindi l'ho poi droppato e stesso discorso è per quello che è il numero 20 holy potatoes what the hell che è uscito sempre quest'anno forse we are in space è uscito a fine 2016 e questo qua invece a metà 2017 comunque sono usciti ravvicinatissimi e di nuovo stesso discorso l'ho portato il primo video sul canale dopo un tot mi sono rotto non l'ho più continuato né ci ho registrato né ci farò un'altra recensione credo perché diventa ripetitivo dopo un tot è carino ma come filler appunto al numero 19 c'è Eador Imperium che è un gioco che mi ha mandato la Snowbird Games mi pare che si chiama così quelli che sono responsabili sia di Mountain Blade with Fire and Sword che del titolo indipendente ma sempre basato sull'engine di Mountain Blade Warband che si chiama Blood and God Carbion questo qua è invece uno strategico e sembra molto interessante ma ho avuto per ora il tempo solo di provare il tutorial quindi un po' su quello che ho visto l'ho piazzato là è un po' complesso cioè il tutorial mette tanta carne al fuoco e quindi ero poi anche stanco ho detto ci fermiamo un attimo lo riprendo un'altra volta e devo riprenderlo adesso a giorni al numero 18 Another Lost Phone Laura's Story di cui non dico tantissimo perché in realtà uscirà una recensione tra poco molto bellino e poi c'è poco da dire comprato è carino al numero 17 Offensive Combat Redux di cui anche ho proprio renderizzato la recensione un attimo prima di fare questo video quindi spero che uscirà prima di questo video visto che l'ho registrata e ogni fa è un FPS online molto scherzoso ecco ma avrete modo di vedere sia la recensione che spezzoni video quindi vi lascio poi a quello al numero 16 c'è Xmorph Defense che ho portato in live due o tre volte se non ricordo male mi era molto piaciuto un Tower Defense ma molto intrigante e con delle dinamiche molto interessanti tra l'altro è stato uno dei titoli che ha venduto di più forse nel mese di settembre o ottobre Steam ha rilasciato l'elenco dei titoli che hanno venduto di più in tot mesi e Xmorph Defense il mese in cui è uscito è stato uno tra quelli che ha venduto di più sono davvero tanto contento perché è un titolo che merita molto è un Tower Defense fatto davvero molto bene da un piccolo team di sviluppo e andate a vedervi le live io credo che appena avrò un attimino in più di tempo ci tornerò magari anche in live perché è bello è proprio bello al numero 15 Rising Storm 2 Vietnam che invece partiva molto bene ma ha deluso un po' ci ho giocato con Xenon ho caricato un video per ora sul canale ma ce ne sarà un altro che dovrebbe essere il seguito di quel primo pezzo che ho caricato e parte da Red Orchestra da Rising Storm Red Orchestra ma ambientato nel Vietnam non dà al suo meglio in più ci sono un po' di problemi con i server ci sono pochi giocatori e tutti magari concentrati su un unico server quindi sono tutti e 64 nello stesso server e il server è pieno mentre tutti gli altri server sono vuoti e e magari quel server pinga tantissimo quindi è un po' un problema e è molto punitivo è molto punitivo come Red Orchestra perché un colpo e sei morto in genere a meno che non ti becchi proprio di di striscio è molto facile uccidere i nemici è perché è molto verosimile ecco come come gioco poi tra l'altro è ancora più cattivo perché nella giungla del Vietnam davvero non vedi mai chi ti uccide c'è a un certo punto PAM colpo in testa e sei morto ritorna e fin là PAM colpo in testa e sei morto è la vita al numero 14 c'è The Sync che ho portato in live un paio di volte forse anche un video non mi ricordo l'ho portato più volte sul canale a un certo punto l'ho droppato non l'ho più continuato perché mi sono dedicato su altre cose e quindi non l'ho più continuato ma è molto punitivo e e quindi dopo un po' mi sono rotto di fare Twilight Error perché devi metterti la mezz'ora per fare il livello e morire 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 finendo che non capisci il pattern dei nemici come agire magari quelle pistole utilizzare ha una grafica e un sonore che sono davvero molto intriganti perché sono originali consiglierei forse magari a chi soffre di disturbi epilettici di non giocarlo ecco perché potrebbe essere fastidioso è un po' cibernetico ma molto carino al numero 13 Drifting Lens che è uno sparatutto a scorrimento orizzontale in cui abbiamo una navetta che deve distruggere degli altri delle altre navette che appaiono sullo schermo e c'è una sorta di campagna di sottofondo ma non è per niente accattivante quindi dopo un po' ho abbandonato anche questo e credo che non ci tornerò più perché è molto bello ma non non tiene alta l'attenzione ecco dopo un tot uno si rompe a meno che non abbia meno roba da giocare io avendo 700.000 titoli da giocare ho detto a un certo punto stop al numero 12 abbiamo Chemkaper Act 1 Peticles in Peril su cui non vorrei esprimermi in realtà cioè forse si vorrei esprimermi un po' ma con accordo con il publisher e con gli sviluppatori non rilascerò nulla su questo gioco non dirò nulla su questo gioco prima di averne parlato con loro quindi voglio prima completare il gioco e poi ne farò una recensione che manderò prima loro e poi manderò a voi e niente quindi ne risentirete parlare è un gioco sulla chimica un RPG sulla chimica al numero 11 c'è Little Briar Rose di cui ho fatto una video recensione fatta bene e tra l'altro in cui ho detto tutto quello che avevo da dire e sono molto contento di aver giocato questo gioco e che questo gioco sia italiano quindi andate a vedere la recensione comprate Little Briar Rose comprate Little Briar Rose no proprio bellino a numero 10 c'è Brawl Out che ho potuto giocare con Pierpaolo dovrei tra l'altro ritornarci adesso a breve perché hanno aggiunto un sacco di robe interessanti perché tecnicamente è ancora in early access e hanno aggiunto la possibilità di sbloccare i personaggi di sbloccare delle nuove arene ci sono le ranked ci sono dei tornei internazionali con premi è un brawler ma ben fatto cioè è un brawler ben seguito ben fatto se uno è interessato del genere è da provare qui adesso è prodotto anche su Nintendo Switch e sta vendendo molto bene e sono contento per loro e sono contento che mi abbiano dato fiducia davvero loro un sacco di ringraziare perché mi hanno detto nonostante tu abbia dei giochi strategici siamo interessati comunque a mandarti la chiave e me ne hanno mandati due al numero 9 c'è Expeditions Viking che davvero come dicevo prima per Expeditions Conquistador una delle sorpresioni dell'anno quando finirò Conquistador magari nel 2000 mai ma no lo voglio finire riprenderò Expeditions Viking perché davvero ha delle dinamiche ancora più interessanti di quanto non fosse Expeditions Conquistador ha una trama stra mega ben fatta ha dei combattimenti favolosi con un'ottima strategia e tattica da studiare un ottimo avanzamento dei personaggi con skill bello 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 crebio è proprio bello sì al numero 9 cioè 8 scusate Conan Exiles che è un survival molto interessante che ho portato in live più volte è famoso per i video con il pipino di fuori perché dà la possibilità di avere i personaggi tutti ignudi dopo un tot ci ho giocato abbastanza ci ho giocato abbastanza perché mi aveva intrippato poi a un certo punto mi sono rotto perché ho detto vabbè uno o diventa super competitivo nei server conosco un paio di persone che hanno continuato nei server online c'erano tipo delle battaglie con i polacchi cinesi che andavano a raidare tutto e griffavano uno o si intrippa bestia o a un certo punto lo troppo però molto ben fatto molto ben studiato al numero 7 c'è Ion Altar che ho giocato a gennaio in pratica a gennaio 2017 e devo ancora finire di fare la recensione tra l'altro perché è un titolo un po' particolare ma avrete modo di scoprirlo l'ecensione è quasi pronta quindi spero che esca breve il numero 6 abbiamo invece Battleship Brigade che ho giocato di recente inizio dicembre sì e mi è piaciuto davvero ma dal primo momento in cui l'ho visto in cui ho visto la grafica in cui ho visto il tipo di gameplay in cui ho visto la musica in cui ho sentito la musica mi è piaciuto un fracco mi è piaciuto un fracco e anche giocandoci sono stato davvero soddisfatto solo a un certo punto ho sentito un po' la monotonia delle sfide e mi è dispiaciuto un po' che si è finito così in fretta è vero che ci sono le sfide settimanali o giornaliere no forse addirittura giornaliere online che ti permettono di allungare la giocabilità però la campagna l'avrei preferita un pochettino più lunga o magari un new game plus o sbloccare altri personaggi perché presentano davvero un sacco di personaggi con varie caratteristiche ma alla fin fine non puoi mai giocarli se non uno cioè puoi giocare ad un certo punto un altro personaggio oltre a quello principale che è Mina Mina Han ne farò al più presto una recensione perché davvero mi ha intrippato a bestia e l'ho finito tipo in una settimana è vero che non è lunghissimo però con tutto il resto e stando dietro anche Black Desert Online di cui parlerò tra poco è molto bello davvero al numero 5 Cook Serve Delicious 2 di cui sono entusiasta di aver avuto la key per recensirlo e sono entusiasta di come sia il gioco ci sono alcune cose da affinare ma davvero strabello e continuo a giocarci ancora adesso magari in treno o a casa aspettando che la pasta si cuocia per continuare a sbloccare tutte le medaglie d'oro della parte Chef for Hire e sbloccare gli achievement cioè c'è tipo una competizione tra me e Zug e un mio amico in questo in questo periodo in cui stiamo praticamente macinando livelli di Cook Serve delicious uno dopo l'altro per cercare di catturare di prendere tutti gli achievement sia tipo un Goraketzemol Goraketzemol Ketzemol Goraketzemol Pokémon no non è Pokémon però adesso la Nintendo mi chiude il canale visto come agisce con Yusub in genere ma andiamo avanti al numero 4 c'è Rise and Shine un RPG a scorrimento orizzontale no RPG non lo definirei tanto RPG questo è un shoot'em up no non è un shoot'em up l'ho recensito andate a vedervi la recensione l'ho usato anche dei termini più appropriati ma mi viene il genere che genere è scorrimento orizzontale 2D fin qua non ci sono problemi ma è molto bello andate a guardare la recensione al numero 3 Battle Brothers che anche questo è stata una delle sorprese dell'anno ha venduto bene è un piccolo team di sviluppo ma splendido è un gioco un po' stile Mountain Blade Warband in cui hai una compagnia di mercenari devi commerciare combattere solo che ha una trama più forte e ci sono poi delle parti in late game ben stabilite perché non va a spegnersi in late game di Mountain Blade Warband in cui sei tipo potentissimo e quindi spacchi tutto devo ancora giocarlo un po' meglio perché mi ci sono solo avvicinato un po' di recente in occasione di quando ha iniziato a giocarlo anche Gavellus un mio amico che se mi sta vedendo lo saluto che saluto e si è molto molto intreppante promette molto bene ma in realtà hanno finito di svilupparlo se non ricordo male e sono molto contento perché se continuano su questa strada questo piccolo team di sviluppo ci darà davvero delle splendide perle per quanto riguarda i giochi di ruolo e per quanto riguarda gli strategici per il futuro al numero 2 c'è Black Desert Online di cui parlavo prima su cui ho macinato centinaia di ore da quando me l'hanno dato a luglio più o meno è un MMORPG coreano ma nonostante ciò non è troppo asiatico punto primo perché è stato smorzato dalla Cacao Games che no non è Cacao Games che dal distributore in Europa insomma il distributore in Europa in America ha cambiato alcune cose per esempio non c'è il canone mensile come c'è in Corea è più pay to win per quello perché ha bisogno di far soldi e l'expe è diversa perché è molto meno grindoso che non in Corea in Corea uno se non deve passarci 20 ore al giorno per fare un livello non è contento mentre invece qua a una certa ci rompiamo anche i cosiddetti però ha un sacco di animali che è super intreppante più sono entrato in una gilda davvero bella e spero di pubblicare dei video al più presto non farò delle live perché non lo regge la mia connessione un gioco online e una live anche di qualità infima farò dei video perché adesso sono più verso il late game conosco molto del mondo di gioco e quindi posso parlare più con cognizione di causa ho iniziato a fare anche delle node war un po' di pvp e quindi lo conosco meglio farò provente dei video ma davvero andate a fare un salto vederlo compratevi magari anche cioè se volete comprarlo compratevi magari anche solo il pacchetto base 5 euro perché è strabello l'unica pecca è che tende al pay to win non è un pay to win però tende al pay to win perché ci sono degli oggetti che è vero che non ti cambia così tanto se non shoppi e ce l'hai però tutto il mondo shoppa perché è davvero troppo più comodo avere quell'oggetto cioè magari al posto che passare tre ore ce ne passi una e allora uno a un certo punto dopo due mesi dice si crebio però io in due mesi ho fatto un decimo di quello che ho fatto l'altro magari magari shoppiamo e poi quindi la gente shoppa in genere però è anche un gioco in cui ho incontrato quasi tutti più vecchi dei vent'anni ecco non è un gioco per bm ecco al numero uno rullo di tamburi c'è dead cells dead cells è un ecco adesso mi sfuggono i termini porca miseria come si chiamano quei giochi in cui provi muori e poi ricominci ma se hai qualcosa in più poi ovviamente voi non potete aiutarmi perché questo video è registrato quindi nel frattempo avrò già saputo la parola come si chiama è un scusate guardiamolo subito dead cells come si chiama quel genere dead cells roguelite ok roguelite roguelite si è un roguelike light quindi roguelite davvero strabello ne portate dei video forse anche una live o forse solo live ma è davvero strabello tanto che ci tornerò perché voglio finire hanno aggiunto delle nuove cose ci sono delle patch future che aggiungeranno un sacco di altre cose e in only access ma è già come non è come se fosse completo però anzi è meglio perché è completo funziona però ti aggiungono ancora altre robe sempre quindi GG molto bello e tanto per questo merita il primo posto in assoluto dei giochi che mi hanno mandato per recensire così concludiamo questa parte e ci lanciamo su un'altra parte praticamente altrettanto lunga quindi durerà almeno un'ora questo video abbiate pietà magari andate un attimo in bagno aspetto no prendete un bicchiero d'acqua ok vecchia sta storia so che potete mettere in pausa allora mentre io invece non farò pausa ma continuerò a parlare e mi andrà via la voce nella categoria dei giochi che ho giocato per conto mio invece non per quanto riguarda il canale quindi magari non avete mai saputo nulla di questo che ho giocato per conto mio iniziamo con il numero 35 che è Pirates Vikings and Knights che è un free to play con tre razze diciamo tra virgolette i pirati i vikini e i cavalieri che combattono in un'arena un po' la mountain blade è come se fosse un multiplayer di mountain blade warband ma con una grafica un pochettino più abbozzata anche quella di warband si è eccezionale e con queste tre razze terribilmente cioè queste tre non sono delle classi si queste tre razze in cui puoi scegliere quindi non è neanche corretto razze al numero 34 invece ho piazzato Age of Conquest che è una sorta di risico tra virgolette multiplayer free multi piattaforma che carino si ma niente di che ecco numero 33 ride world war 2 questa è stata una delle più grandi delusioni dell'anno invece hanno mandato io ho giocato alla beta che hanno mandato tutti quelli che vanno a payday 2 prima che uscisse questo ride world war 2 è stato tipo per tre o quattro giorni su steam con questa beta che potevano provare tutti quelli che vanno a payday 2 ed è una sorta di voleva essere una sorta di payday 2 ambientato durante la seconda guerra mondiale quindi tipo che rubie i tedeschi una roba del genere però nonostante il trailer fosse super accattivante fa schifo cioè sono proprio brutte le campagne in cui ci sono brutta la gestione dell'inventario è un flop enorme un flop enorme secondo me è proprio un'occasione buttata al vento poi tra l'altro non capisco il perché devono fare una cosa cioè al posto che fare un payday 3 hanno detto dai facciamo una roba super innovativa mettiamolo nella seconda guerra mondiale visto che adesso fanno tutti roba nella seconda guerra mondiale e anche no avrevo fatto bene a non farlo poi non l'ho comprato non l'ho giocato oltre alla beta però ho visto delle recensioni più recenti e continuo a dire quello al numero 32 c'è un giochino free to play sciocchino proprio che mi ha consigliato commentato il video una sera che non avevo niente da fare in cui non avevo niente da fare e si chiama trimmer tycoon e in pratica devi rasare la barba con il mouse ai clienti e niente simpatico così ma dura un paio di orette forse anche meno forse un'oretta e l'hai finito al numero 30 c'è pacman 256 che avevo trovato in un bundle è l'unico per cui ho detto ah no dai giochiamo è l'unico gioco di pacman che ho su steam rendiamo onore a pacman è carino secondo me è una buona innovazione ma l'avrei giocato solo su cellulare su steam è sprecauto accendere il computer per giocare questa roba qua è tempo sprecauto al numero 30 c'è battle path che è un un po' come crypt of the necrodancer in cui i mob si muovono quando ti muovi tu no la si muovono al tempo di musica no si muovono anche in base a come ti muovi tu anche qua sono in pratica un dovrebbe essere un hack and slash però appunto questa dinamica qua è boh non mi ha preso non mi ha esaltato quindi l'ho abbandonato e l'avevano regalato tempo fa per se l'ho trovato anche gratis in giro al numero 29 c'è xblades anche questo se non sbaglio l'ho ricevuto gratis su quel sito anni fa poteva essere carino ma è lognoso è noioso dopo cioè la seconda metà del gioco è identica alla prima metà e boh si carino ecco ma niente di di che ho una roba molto più interessante al numero 28 c'è Styx Master of Shadows che per me è stata di nuovo una grande delusione perché non perché il gioco sia brutto insieme ma perché secondo me io non sono fatto per lo stealth cioè sbagliavo sempre mi rimandava sempre all'inizio del livello e a un certo punto ho detto ma perché cribio devo perdere il tempo della mia vita in cui posso giocare ad altro e diventare frustrato per sta roba qua ho detto boh ciao ti ho avuto praticamente a gratis e quindi era in un bundle mensile se non ricordo male quindi niente l'unico mio rimorso è che avrei potuto scambiarlo per qualcos'altro perché la gente è interessata a questo gioco scambia abbastanza bene al numero 27 Human Resource Machine che è davvero molto intrigante è degli stessi autori di come cribio si chiamava Little Inferno ed è una sorta di giochino per imparare a programmare tanto se qualcuno di voi sta imparando a programmare secondo me è un ottimo gioco con cui fare un po' di esercizio sono degli enigmi legati alla programmazione molto interessanti con una piccolissima trama tipo come ce l'aveva Little Inferno ecco la fine e una grafica sempre molto carina come quella di Little Inferno passiamo al numero 26 che è Burnout Paradise su cui avevo molte aspettative in realtà invece secondo me è un po' invecchiato male perché la guida è davvero strastralegnosa poi mi hanno detto ah no è perché tu giochi col volante e non giochi con il pad andrebbe giocato con il pad come se fosse un consolaro magari ci ritornerò con il pad però col volante è proprio una delusione cioè la macchina è un pezzo di cartone in pratica e andiamo al 25 Astronir che anche questo è stato un po' una delusione che ho comprato due volte per sbaglio per giocarlo con PlayRapets ma alla fine non siamo riusciti a giocarlo mio caro PlayRapets ho finito praticamente tutto il gioco in tre ore e qui dopo non c'era più niente ho fatto degli aggiornamenti nel mentre ma degli aggiornamenti così blandi tipo adesso puoi colorare anche i pezzi di ma anche no ma anche no al numero 24 Fishing Planet che è un free to play multiplataforma davvero molto intrigante è un simulatore di pesca alla fine però ha tantissima roba in game è molto rilassante ed è un gioco su cui vorrei proprio tornare perché mi aveva davvero molto ben preso e tra l'altro è anche molto profondo ci sono un sacco di strategie del tipo ah no in quel spot là ci sono i pesci se vai tra quell'ora e quell'ora però devi prendere la canna numero con la lenza X vedere il vento tirare in quel modo strabello strabello al numero 23 c'è Scania Truck Driving Simulator che è una sorta di ci sono dei livelli in cui devi fare delle manovre particolari con i camion con i camion Scania e è carino per allenarsi e guidare i camion effettivamente è abbastanza carino è un po' vecchiotto adesso quello l'ho sentito un po' ecco anche per quanto riguarda la configurazione con il volante la numero 22 Fez che credo conoscete tutti perché è un gioco che credo abbia conosciuto che abbia giocato mezzo mondo non l'ho finito mi sono un po' rotto non capivo più dove dovevo andare però è molto carino anche come modo di pensare come modo di ragionare perché è un bidimensionale che diventa tridimensionale quindi devi capire come il tridimensionale si sposa con il bidimensionale ed è fa ragionare e a me piacciono i giochi che fanno ragionare così tanto che l'ho abbandonato no in realtà no non per quello l'ho abbandonato al numero 21 Doki Doki Literature Club e Xenon mi dispiace per te lo metto solo al posto ventunesimo perché mi è piaciuto ma non mi ha svegliato niente di che in me ecco secondo me è molto una trovata pubblicitaria per fare scalpore ma senza molto altro non mi ha turbato particolarmente e mi ha fatto pensare la gente invece è stata tipo stress ha detto nooo il gioco dell'anno è il nuovo The Stanley Parable boh non lo so io non ho condiviso questo tipo di discorso al numero 20 Sam & Max Culture Shock che è il numero capitolo 1 della serie 1 di Sam & Max della Telltale prima di quello di cui ho parlato prima che era Situation Comedy è molto bello molto ironico non troppo difficile una bella avventura grafica al numero 19 abbiamo Circuits che è davvero molto bello perché in pratica richiede di ricostruire una musica sentendola tu hai tipo dei pezzetti base tipo dei beat o dei pezzi di strumenti e devi comporli su una sorta di rotaia di linea temporale in cui scorre tempo di sottofondo per ricostruire il il brano ci sono tipo 25 livelli e mi sono bloccato al venticinquesimo però me lo sono praticamente divorato perché è molto bello e a me piace la musica al numero 18 abbiamo Ozzy Earth Adventures che è un platform 2D bistrattato un po' perché l'hanno regalato c'è sempre su Steam Gift ma ho fatto bene ad accettare il consiglio di Bellissimo del mio amico Bellissimo che tra l'altro saluto e provare a giocarlo perché mi ha divertito non l'ho ancora finito ma mi diverte è un bel platform easy non ti da tantissimo non ti da chissà che cosa però è bello è bello puoi giocarlo dal bambino al 90enne allora 17 un'altra avventura grafica Edna and Harvey Harvey's New Eyes che mi è molto piaciuto davvero mi è molto piaciuto e e sono contento ho proprio detto Cribbio la Dydelic anche prima di Deponia faceva delle avventure grafiche proprio belle cioè è una nuova LucasArts secondo me la Dydelic sforano avventure grafiche che hanno davvero sia dei belli enigmi che delle belle storie che che abbia buona ambientazione se quella di Harvey's New Eyes è una roba favolosa l'unica pecca è stato un bug a un certo punto per cui ho dovuto scaricare una correzione da internet però super bella sono stato molto contento di giocarlo al numero 16 company of heroes 2 a cui ho fatto in realtà solo una partita con Xenon me l'ha regalato Xenon tra l'altro lo ringrazio molto per questo e è un RTS della seconda guerra mondiale l'hanno anche regalato di recente quindi suppongo che tutti voi ce lo abbiate a parte forse c'erano un paio di cose che hai nei DLC però il resto l'hanno regalato c'è anche una campagna single player se non ricordo male che ancora non l'ho provato al numero 15 pony island che invece mi ha stupito molto più di Doki Doki Literature Club ho comprato il bundle mole bundle overwhelmingly positive bundle cioè quelli giochi con le recensioni estremamente positive il tier 1 aveva proprio per pony island perché pony island me ne avevano tutti parlato stra 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 bene in effetti è stra 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 bello nonostante la grafica non sia quella che piace a me è un non lo so per me è stato il Doki Doki Literature Club prima che uscisse Doki Doki e con una trama e un gameplay molto più interessanti al numero 14 Car Mechanic Simulator 2014 ottenuto tramite uno scambio e che mi ha intrippato davvero tantissimo tanto che i primi livelli me li sono mangiati uno dopo l'altro a gran velocità ho anche i DLC ma dei DLC ho giocato un po' meno perché a un certo punto si è spento l'interesse dopo aver sbloccato praticamente tutto ma molto bello ed è vero fatto tornare un po' bambini in cui smonti monti vedi che cosa funziona cosa no bello al numero 13 invece Deus Ex Human Revolution che tra l'altro ho messo a quel livello più che altro per il fatto che capisco che ho fatto bene però è di nuovo troppo stealth per i miei gusti c'è troppo trial and error infatti non sto ancora mettendo dentro di me di averlo droppato perché vorrei arrivare alla fine però mi sto proprio rompendo cioè lo gioco magari una settimana poi per due settimane non lo gioco perché mi beccano e quindi muoio ricomincio dal salvataggio provo a fare un'altra strategia e mi beccano di nuovo e muoio mi beccano di nuovo e muoio mi beccano di nuovo e muoio al decimo tentativo magari riesco è un po' mi scoccio al numero 12 un altro gioco del Overwhelming Positive Bundle che è Epic Battle Fantasy 4 che nonostante graficamente non mi dica proprio nulla anche adesso dovessi guardare gli screenshot e direi che schifo di gioco però ho detto se ha una valutazione che era tipo del 93% positiva su Steam ci sarà un motivo e infatti è un gioco di ruolo fatto davvero stra bene credo che possa rientrare nella categoria dei JRPG e quindi nonostante io non sia tanto da JRPG è fatto stra mega bene sia come trama che come mob che come sistema di livelli che come sistema di crafting che come sistema di skill favoloso cioè pokemon spostati e sono curioso di vedere quando uscirà al 5 cioè c'è già stata una alfa che ha mostrato uscire al 5 che hanno in realtà un solo sviluppatore al numero 11 abbiamo Stellaris che ho comprato con un bundle per giocarlo in multiplayer ma ho fatto una sola partita neanche terminata perché è troppo 4X mi ha un po' rotto per quello mi aspettavo un GSG la Paradox diceva ah no è il primo GSG fantasy GSG sta per Grand Strategy Game scusate tipo Europa Universal Serts of Iron Victoria The Kings e invece no un 4X e basta non è un 4X GSG è solo 4X e a quel punto allora preferisco giocare a ecco come si chiama Endless Space Endless Space al numero 10 abbiamo Oxenfree che anche mi è piaciuto tantissimo avevo letto delle recensioni che lo decantavano l'ho giocato e mi è piaciuto davvero tanto quindi vi consiglio di giocarlo davvero poi lo trovate anche a poco secondo me al numero 9 abbiamo Bastion che mi è piaciuto tanto all'inizio ma a un certo punto poi mi ha un po' rotto però l'ho finito e mi è piaciuto proprio lo stile in cui l'hanno affrontato e infatti è una casa di sviluppo davvero ben fatta che anche con Transistor e con Pyre quest'anno mi pare che si chiama il nuovo uscito hanno fatto dei buoni 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 titoli anche come sistema di combattimento e come gameplay era molto interessante Bastion e l'ho finito l'ho finito quest'anno e sono molto contento di averlo finito al numero 8 c'è Ziggurat che ho trovato in un bundle e un roguelike molto intreppante molto bello anche come sistema di combattimento graficamente non è molto appagante però è molto bello e tra l'altro degli stessi sviluppatori di mini car racing no come si chiama uno è Pharaonic quello più recente e l'altro invece si chiama arrivo little racer street si 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 sono quelli famosi appunto per questi due giochi vabbè tre con Ziggurat è davvero molto molto bello infatti aveva delle recensioni molto molto positive su steam e ho fatto bene a giocarlo e credo che ci ritornerò è come fosse un dead space no un dead cells tridimensionale molto abbozzato no vabbè si è perché sono roguelike tutti e due arriviamo al numero set che è civilization 5 ho giocato solo due partite ma sono molto contento mi è molto piaciuto ma sono di quei giochi in cui o ci passi centinaia di ore o scalfisci proprio all'inizio all'inizio dell'inizio del gioco ce l'ho con tutti i DLC e l'ho comprato con tutti i DLC tipo dopo Eoni che è uscito perché era già uscito il 6 quando ho comprato il 5 ma credo che non comprerò il 6 perché uno ha bisogno di dedicarci davvero tanto tanto tempo al numero 6 c'è invece Rising Storm Red Orchestra che credo tutti abbiate vi consiglio di provarlo perché l'hanno regalato quindi ce l'avrete praticamente tutti l'hanno regalato di recente su Steam e FPS ambientato nella seconda guerra mondiale ma un FPS serio non quelle mainhate tipo Call of Duty è un FPS realistico ecco ecco non un AAA non quei AAA che sono fatti solo per vendere e per essere piacenti al numero 5 abbiamo Armello che ho iniziato solo a giocare ho quasi finito il tutorial ma vedi davvero tante partite nel tutorial già ed è molto bello è tipo un gioco da tavola portato su computer ma favoloso anche come meccaniche se ci fosse come gioco da tavola lo giocherei ma anche su computer rende bene non è come giocare a monopoli a computer che dici si vabbè due scatole quadre no è davvero bello è molto bello e al numero 4 c'è Abzu che per cui ringrazio Giamiro Rasta perché Giamiro Giamiro Rasta o Giamiro Asta tra l'altro Giamiro chiamiamolo Giamiro e basta che me l'ha regalato l'ho molto apprezzato in realtà mi aspettavo un filino di più forse perché Luca di videogames and arts quando c'è qualcosa che è bello dal punto di vista grafico e sonoro dice è il gioco dell'anno tutti devono nascere a pane in realtà magari no di sicuro per me non è il titolo dell'anno ma è molto molto bello come gioco molto profondo è molto criptico anche al numero 3 abbiamo Portal 1 che si ho giocato solo quest'anno e tra l'altro l'ho comprato tipo una settimana fa neanche proprio fine dicembre il 29 o il 30 dicembre e l'ho giocato in due pomeriggi forse tre ore e mezza l'ho finito e crebio è favoloso è proprio favoloso ti fa ragionare un po' come Fezze in altre dimensioni i puzzle sono molto intrippanti la trama è discreta non è potentissima la trama però è discreta e non annoia non annoia vai avanti con i puzzle uno dopo l'altro molto bello sono un po' spiaciuto di averlo scoperto solo adesso ma sapevo che esistesse solo non avevo mai comprato e mai giocato al numero due Life is Strange quello vecchio non quello nuovo Before the Storm di cui ho comprato la versione completa di scorsi saldi natalizie che ho giocato durante la primavera di quest'anno diciamo e davvero molto bello tranne il quinto capitolo a parte che ne ho fatto una recensione quindi potete vedere quella ma il quinto capitolo mi ha estremamente deluso mentre il resto del gioco mi è molto piaciuto al numero uno invece rullo di tamburi c'è il vecchio ma sempre glorioso Siberia in Siberia 1 non Siberia 3 che mi ha detto che è stata una schifezza enorme tra l'altro a cui avevo iniziato a giocare proprio per recensirlo prima che uscisse Siberia 3 poi Siberia 3 è uscito subitissimo tipo io ancora ci sto lavorando su Siberia 1 perché è abbastanza lungo e in alcuni punti complesso da risolvere non sto guardando soluzioni su internet sto andando completamente da me sono verso la fine e tra l'altro c'è uno degli enigui fatti stra bene due graficamente stra bello tre il doppiaggio ma il doppiaggio è una roba favolo c'è da strapparsi i capelli il doppiaggio di Siberia e la musica il sonoro è una roba che c'è credo nessuno di questi giochi di cui ho parlato oggi fino a Siberia abbia un doppiaggio e un sonoro di un tale livello infatti ho detto ma cribbio perché non l'ho mai giocato Siberia è un cioè quando l'ho avviato è stata una roba tipo mind blowing e me ne sono innamorato e me ne sono innamorato non l'ho ancora finito abbiate pietà di me però riconosco che è uno dei migliori giochi che si è usciti che si è uscito di sempre ecco detto questo è passata praticamente un'ora io ve l'avevo detto che avrei fatto tardi spero che non vi siate troppo annoiati spero di avervi un po' interessato e con i titoli che ho giocato quest'anno 2017 speriamo che questo 2018 porti di nuovo altri tanti bei giochi magari finisco qualcuno di quelli che ho iniziato nel 2017 ne inizierò di sicuro tanti di nuovi alcuni li ho già iniziati alcuni li ho già finiti e niente ci vediamo nel prossimo video vi invito a iscrivervi a lasciare un mi piace e scrivere un commento qua sotto buona giornata a tutti ciao ciao